Giorgio Gangemi di Consip. Qual è il ruolo di Consip negli acquisti energetici della pubblica amministrazione? Il ruolo di Consip nell'ambito degli acquisti energetici della pubblica amministrazione nasce con la legge finanziaria 488 del 1999. La spesa per energia della pubblica amministrazione è molto rilevante e quindi gli strumenti che Consip mette a disposizione per efficientare la stessa sia da un punto di vista dei prezzi unitari di acquisto che anche delle quantità energetiche consumate è molto rilevante. Da questo punto di vista Consip mette a disposizione una priorità di strumenti che vanno dall'acquisto delle commodities energetiche, quindi energia elettrica, gas, gasolio da riscaldamento e carburanti per autotrazione, ai servizi energetici integrati in un'ottica di contratto e PC Energy Performance Contract sia per gli immobili sia per l'illuminazione pubblica. Inoltre Consip mette a disposizione altri strumenti che possono essere acquistati tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione, quale beni e servizi per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili attraverso una serie di metaprodotti e anche un sistema dinamico d'acquisto che permette anch'esso l'acquisto di beni e servizi per l'efficienza energetica e per l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili. In questo momento il ruolo di Consip è molto rilevante in quanto in un momento di dinamica dei prezzi abbastanza altalenante si deve cercare di efficientare non solo il prezzo d'acquisto ma anche e soprattutto la quantità consumata e quindi tutte le iniziative che possono portare a un miglioramento dell'efficienza energetica della pubblica amministrazione sono da preferire in quanto permettono di ridurre la leva della quantità consumata oltre a quella del prezzo d'acquisto. Grazie